Io, sindaco Braccobaldo, sono onorato di consegnare questa medaglia al nostro capo della polizia, Luca Tortuga, per avere tenuto la nostra città al sicuro e senza disastri per due settimane. È un nuovo record! Tesoro, ti ho gonfiato questo palloncino! È pieno del mio amore e del mio alito caldo! In questo modo potrò trovarti ovunque, tra questa folla di estranei e svitati! Oh, wow! È il mio palloncino personale! Ora, ricorda, non si è mai troppo al sicuro! Non si sa mai quando c'è un disastro! Può accadere in qualsiasi momento! Ma tranquilla, perché io sarò sempre accanto a te a proteggerti da... Che cos'è? Che cos'è successo? Tatina! 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 Oh, no! Tatina! Tatina! Grazie per aver aiutato un'altra! Tatina! Papà! Papà! Papino! Paparino! Padre! Papà! Papo! Oh, palloncino, che cosa faccio? Ok, sì! Papà dice che se ci separiamo devo restare immobile finché non mi trova! Così sono completamente sicuro! E che continuano ad accadere cose del genere! Signor sindaco, tutto bene? Cos'è successo? Questa è... Bava? Accipicchia! È successo qualcosa a Gorilla Lilla! A tutte le unità c'è un 10-45! È bello grande, coraggio! Coraggio! Ho, 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 ho! D'accordo, uomini! La nostra priorità è tenere al sicuro i cittadini! Ditemi le vostre idee migliori! Cinture! Delle bande! Lo scivolo giallo che salta fuori quando l'aereo si schianta! Ah, ah, ah! Eccellente! Non vi fermate! Non ci sono cattive idee! Ehi!